Restiamo sempre a Salerno, adesso scusami, scusami, non cance, restiamo sempre al sud, perché? Il podcast dove ti raccontiamo le storie di sconosciuti, che nella settimana riescono a ritagliare un angolo di successo nelle più famose testate giornalistiche. Io sono Chiara, e io sono Matteo, questo è Caramelle Da! Ciao! Ciao a tutti ragazzi, come va? Come stai Chiara? Bene, e tu? Tutto bene, tutto bene. Bene, oggi 18 ottobre. Partiamo subito a Raffica con l'Accade Oggi. Accade nel 1922 la fondazione di una delle più grandi aziende radio-televisive del mondo, la BBC. Wow! Sì, la BBC si fonde con sei compagnie, tra cui quella di Marconi. Quindi, sì, tale Marconi Company, che fu fondata anni prima, sempre a Londra, appunto da Guillermo Marconi. Ora, cosa successe? Che un mese dopo fu trasmessa la prima puntata, diciamo, la prima emittente, la prima emissione radio-televisiva, proprio dalla Marconi House. Questo è molto interessante, perché c'è anche un po' di italianità nella BBC, che oggi, appunto, è considerata, per chi non lo sapesse, una delle più grandi emittenti a livello mondiale, ma anche tra le più autorevoli BBC News e tra le più autorevoli in tutto il mondo. E intanto ne prendiamo le notizie da BBC News. E sai perché possiamo prendere le notizie da BBC News? No, perché? Perché dal 2007 la BBC fu la prima emittente a concedere la licenza Creative Commons, quindi con il logo CC, che permette appunto a tutti di rivedere, rivisitare, share-are tutte le loro notizie. Bella! Sì, nel sito web. Quindi, tanti auguri a BBC News, noi siamo qui invece a fare un podcast, il podcast Caramelle A, dove vi raccontiamo le notizie più assurde della settimana. Caramelle da sconosciuti. Spieghiamolo, spieghiamolo a nostri audience. Ah, ok, hai voluto dare così questo... Sì, spieghiamolo a nostri audience, perché ogni tanto ci chiedono, ma come vuoi caramelle da? Caramelle da sconosciuti. Sconosciuti, che è? Noi siamo sconosciuti, ma anche le persone che fanno cose sono sconosciute. Esatto. Riescono a trovare... E voi non dovreste accettare le caramelle da rischio. Non guardate questo... Dovrebbe... Vi tagliano il loro pezzo di successo nelle liste state giornalistiche. Noi vi raccontiamo quello che succede. Allora... E partiamo subito, quindi. Vai. Partiamo subito con un titolo... Sì. ...che arriva un po' da casa mia, dalla Sicilia. Ah, benissimo. Anche se dall'altra parte, no? Benissimo. Catania ha spasso per la città su un divano montato sul monopattino. Il video diventa virale e gli fanno 2000 euro di multa. Quindi. Ah, grandissimo. Quindi. Virale? Virale dove? Che piattaforma? Su TikTok. Un video TikTok, andatelo a vedere perché appunto è virale, quindi lo trovate su tutti i giornali oggi, tra l'altro. Molto probabilmente l'avete già visto, se è andato virale, però... Esatto. E c'è questo quindicenne, quindi un ragazzino, che ha montato un divano sul suo monopattino. Questo è l'ingegno di cui l'Italia ha bisogno. E va in strada, sul divano, vedi lui così sul divano, sul monopattino. Ma riesce anche a sterzare? Sì, sì, sì. Ah, grandissimo. E in più aveva gli amici dietro che lo riprendevano, no? Cioè. Allora, nessuna grande, diciamo, azione è stata compiuta senza un amico dietro con un telefono che ti riprende. È vero. Ti riprende. È vero, ma la polizia, questo è successo l'8 ottobre, ma la polizia li ha rintracciati adesso, ma non solo ha rintracciato lui, ma ha rintracciato anche gli amici. Quindi l'hanno multato. L'hanno multato. 2000 euro. Vabbè, per la gloria. Di questo mi dispiace molto, ma sì, per la gloria. Posso dire. Questo è altro. Mi ricordo molto la notizia di Balotelli che una volta andato a Napoli diede 2000 euro ad una persona per buttarsi dal porto con tutto il suo motorino. Ma davvero? È vera sta storia? Sì, 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 era vera di qualche anno fa. Quindi c'è lui così per sport presa. Per il meme. Però è diventato famoso così lui, questo ragazzino. Ah, sì, sì, è grandissimo. E poi non è facile montare un divano sul monopattino, se ci pensi. Io non saprei neanche dove iniziare, chiaro. A livello fisico devi portarlo su e agganciarlo, perché sennò... Agganciarlo, ma tutto il sistema di stersi, ma aveva dei freni? Il monopattino ha i freni, quindi immagino che riuscisse a frenare. È assurdo, anche a livello fisico. Avrà studiato fisica questo ragazzo, palesemente. Oppure aveva davvero tantissimo tempo libero, diciamola tutta. Potrebbe essere uno, potrebbe essere l'altro. Se quando dicono, vabbè, i giovani d'oggi non si annoiano più perché hanno sempre il telefono... E invece no, invece no. C'è anche della manualità, c'è anche un momento in cui noi... Quando ci annoiamo facciamo queste cose. Quindi meglio che stiamo con i telefoni. Insomma, questo è la nostra... Anche perché se non c'è su TikTok, se non c'è su Instagram, non è mai esistito. Vero, vero, vero. Per questo servono gli amici. Per questo servono gli amici. Comunque, comunque. Restiamo sempre a Salerno. Ok. Scusami. Cioè, eravamo manca tanto. E non cancele. Restiamo sempre al sud, perché... Ho spoderato. Vabbè, vabbè, vabbè. Restiamo sempre al sud, perché la prossima storia è ambientata a Salerno. Ah, certo. Questo è un gran titolo, eh. Un titolo. Un gran titolo. Finto organista di Papa Ratzinger, corteggia anziana e poi le ruba 5 milioni. L'anziana mi regalava i cioccolatini. Poverina, no! E questa è una storia di un'82enne salernitana che si è fidata di questo organista finto, perché lui si... Cioè, ovviamente come falsa identità dava l'organista di Papa Ratzinger. L'organista di Papa Ratzinger. Cosa vuole un organista che suona l'organo per il Papa. Esiste come lavoro. No, certo, ma qual era il suo... cioè, qual era il beneficio che dava a queste persone che descava, cioè? Non lo so, secondo me, lui effettivamente sapeva suonare, ho letto. Beh, sicuramente. Poi in più le persone anziane, sai, metti il Papa di mezzo. Eh, sì, sì, esce la 50 euro. Le nonne... Ma 5 milioni, Matteo. No, 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 5 milioni è assurdo. Vabbè, vuol dire che c'era un mercato. Si è inserito in una fetta di mercato che effettivamente era profittevole. Sì, tra l'altro, lui diceva di investire questi soldi. Quindi la vecchietta gli dava i soldi per investirli. Lui poi li investiva in fondi fittizi e se li girava al suo conto corrente. Così, vabbè, però... Cioè, dai, è un approfittatore. Comunque noi siamo lontani da questo tipo di pratica, però lui è un genio. Cioè, dal punto di vista proprio criminale. Io ci pensavo, ma arrivare a trovare un personaggio. Perché tu quando fai una truffa, immagino, devi decidere il personaggio, no? E anche chi vuoi essere, certo, certo. Cioè, arrivare a essere l'organista di Papa Ratzinger. Ce ne vuole. Come ti viene? Sai che proprio nell'almanacco di qualche giorno fa, quindi la notizia, l'accade oggi, che diamo durante tutte le giornate, proprio questa settimana era stato, diciamo, eletto Papa Ratzinger, eccetera. Ah, era l'altro? No, Papa Giovanni Paolo II. Ricordo che anche... Papa Giovanni Paolo II. Quello prima di Ratzinger, mi sa. Sì, sì, quello prima di Ratzinger. E Uetit. Sì, sì, Papa Uetit. Mamma, io ho una confusione. Papa Uetit. Ok. E anche con lui succedevano tutte queste cose. Cioè, secondo me, proprio la figura del Papa e della Chiesa è effettivamente associata a questo filone di truffatori che cavalca un po' l'onda. È un po' i santoni, dici. Quelle cose che fanno vedere la striscia, la notizia, tipo. Sì, sì, esatto. Che si approfittano nei vecchietti. Vabbè, però questa è una storia molto triste. E la tipa, la signora in tribunale ha detto, lui era tanto carino, mi regalava i cioccolatini. Eh beh, grazie. Signora, 5 milioni. Esatto. Come minimo. Un investimento, un ritorno sull'investimento non da poco. Non da cassetta da 20-30. Ma il... Ok, quindi Salerno. Salerno anche, immagino. E lui invece, la donna era di Salerno, un 82enne salernitana, mentre lui era un 51enne romano. Quindi magari, boh, l'avrà conquistata un po' con la simpatia così, l'accento. E vede il ragazzo giovane. Ragazzino. Vuoi che... Mamma. Non lo so. Non lo so. Brutto, brutto. Non prendetevi gioco dei vecchietti. È triste. Triste, molto triste. Soprattutto non spacciatevi per organisti del pavo. Soprattutto non spacciate. Ma che cosa c'entra la droga? Non so. Vedete tipo quei... Così che butti così per vedere cosa succede. Soprattutto non spacciate. Ok. Ok, ok. Comunque. Comunque, comunque. Focus. Perché la terza notizia riguarda sempre dei vecchietti. Ah, quindi il gancio e il fil rouge dei vecchietti. Esatto. Vecchietti, hai capito? Prima era regionale, poi... E poi andiamo. Vecchietti, perché? Perché? Titolo. Briscola. Il torneo da record di due amici in casa di riposo. 50.000 partite in sei anni. Mamma mia. 50.000 partite. Hai idea di quante sono 50.000 partite? No, ma solo in sei anni. In sei anni. Quindi, quante sono... Mamma mia. Vabbè, un po' meno. 8.000 partite? Sì. Mamma mia. Più di 8.000 partite all'anno. Più di 8.000 partite all'anno. Sono davvero tantissime. Un anno ha 365 giorni, quindi dovevo farmi i calcoli prima. Sarebbe stato utile. Sì, sì. Però comunque sono tante partite. E qui... Facevano solo questo. È partita una coronaria la nostra prof di matematica. Effettivamente è molto rischiosa questa cosa che facciamo. Sì, di dire le cose così in non diretta. Sì, di non prepararci questa cosa. Ma comunque è improvvisazione. Questo è il bello della diretta. Ovvio. Se volete correggerci anche matematica, va bene. Sì, 50.000 partite. Io che vengo da un paesino di 300 anime, ho visto così tante partite di briscola giocate. Da noi si vanno proprio i tornei. Al sud ci sono... Quanto dura una partita di briscola? Io non sono un amante. No, una partita di briscola durerà davvero pochissimo. Ah, ok. Guarda, massimo, massimo che può durare. Anche perché è un gioco colloquiale. Quindi la gente si siede giù e partiene a parlare. Secondo me è il massimo che durerà solo 10 minuti. Ah, aspetta. Mi so se ho quella cosa lì. Vai. Dire te. Non dimenticare di seguire Caramelle D'Ass sui social per contenuti esclusivi, backstage e tanto altro. 10 minuti? Così poco dura? Sì, sì, sì. Non di più. Non di più, non di più. Io mi aspettavo tipo... Cioè, io sono un appassionata di burraco. Eh, burraco, bridge. Ma dura un botto di tempo. Questa è la tua anima un po' più anzianotta dentro. Meno genzini. Meno genzini. Vi potrete perdonare, ma sì. Sì, ma perché da noi anche i ragazzi giovani giocano in estate. Ah, sì, certo, certo. È molto normale come cosa. Penso che la nostra generazione, almeno quelli della mia età, noi giocavamo di più a 3-7. Noi giocavamo di più a 3-7, quindi che è un gioco un po' più dinamico, eccetera. Per i amici della Romagna, Mila Romagna, eccetera, becco. Sarebbe una sorta di becco. Ah, ok. È vero, perché poi i giochi sono tanto... Sono tanti, sono variegati rispetto a tutto quello. Infatti, quando c'è il momento in cui vai all'università, ci sono tutte queste differenze. Perché ovviamente nel gruppo che ti crei ci sono persone di tutta Italia, no? E quindi ogni volta è un casino, sia con le cose... Cioè, con i termini, sia con i giochi. Ogni volta si deve decidere un gioco, no? Cioè, giocare a briscola, immagino, per uno di... Di cosa? Nel senso di uno del nord. Del nord. Però in realtà no, perché questi qua sono di Trento. No, ma tu hai visto i paesini? Ma tu hai visto i paesini in... Anche bene tu c'hanno tanto. Ma certo. È vero, no? No, no, hai ragione. No, cioè, vabbè, non li vedi qua al bar, perché noi facciamo altro. Ma perché noi facciamo altro? Magari nei bar comunque giocheranno. Embrianza. Sì, secondo me è Embrianza, perché erano duro. Poi abbiamo visto anche un'intervista. Ridevo per questo. Sì, 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 l'intervista dei candidati in Embrianza, molto simpatico. Comunque, comunque, sì, questi due ragazzi, Vittorio... Ragazzi? Vabbè, ma chiamiamo i ragazzi. Ragazzi perché sono giovani anche. Vittorio e Adriano, 61 e 65 anni. Quindi sono due ragazzini. Ma cosa si vincevano? No, niente, lo facevano per amicizia. Ah, ok, niente. No, niente. E loro, in più, hanno riportato ogni punteggio rigorosamente dal 2017. Cioè, hanno registrato tutti i punteggi su 12 quaderni. Quindi c'è anche tutto uno storico di partite, di risultati. Una documentazione ben approfondita. Ma sono giovani, pensa quante altre ne potranno fare. Perché la vita media ormai quant'è? Ottant'anni sarà. Ma sì, ottant'anni. Non ne hanno sessanta, in cinque anni ne hanno fatte... Beh, grazie a Dio sono già andati in pensione. Noi molto probabilmente non ci andremo, non avremo neanche la pensione. Noi non avremo il tempo di giocare a pescola. Eh sì, dobbiamo farlo in pausa pranzo. Pausa pranzo a bocce, con tutti i carini. Secondo un'anomatopea. Ho fatto un'altra un'anomatopea. Non l'hai fatta ieri l'altra? Sì, 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 no, ieri. È una oggi. Opla. Ok, opla. Stiamo avvicinando verso l'età pensionistica. Comunque, ancora tempo per un'altra notizia. Hai ancora tempo per un'altra notizia? Un'ultima. Perché riguarda una cosa che c'entra sempre un po' con gli anziani. Cioè, non con gli anziani, però... Prima abbiamo provato un po' di chiesa, anziani, c'entra sempre. Perché? Don Paolo è il referendum sulle campane da silenziare. Vincono e no, l'orologio continuerà a suonare. C'è questo prete che ha fatto un referendum in chiesa. Sulla comunità parrocchiale. Sì, aperto a tutti. Sul fatto di silenziare o meno le campane. Perché molti residenti della zona si erano lamentati perché queste campane suonavano dalle sette del mattino, tutto il giorno. Beh, noi ci lamentiamo quando le campane suonano. Io sempre, io sempre, cioè... Soprattutto se stiamo registrando. Se stanno registrando e suonano le campane siamo pazzi. No, ma anche la mattina. Anche la mattina. Cioè, oddio, quando lavori non lo so. Però quando non lavori... Eh, quello è Gesù che ti chiama, nel senso... No, cioè, no. Io non metto la sveglia apposta e mi suonano la campane. Quindi lui cosa ha fatto? Ha detto, è vero, bisogna essere democratici nella vita. Ha fatto, però, ha scatenato la gang del bosco, cioè la gang della chiesa, e su 80 voti 11 hanno detto che le volevano silenziare e gli altri 68 hanno detto no. Mado, 11 volevano silenziare? Una vittoria... Schiacciante, dai sì. L'hanno stracciato. L'hanno stracciati. Ma non lo so, il... Saranno... Vabbè, saranno l'ora dei parrocchiani. Quelli che sono... Ok, però, rendiamoci un attimo conto. Se questo referendum fosse arrivato a tutte le persone... Dovevano sponsorizzarlo. E non so se sarebbe passato o meno, no? Di per sé. Lo sponsorizza all'interno della chiesa, ovviamente. Tu somministri già persone che sono fidelizzate. Vero. Ora, utilizziamo gli termini di marketing, va. Il target era sbagliato. Il target era sbagliato, perché c'è... È ovvio che ti dicano sì, perché in questo modo non... Ovvio, sono fedeli. Però, quindi, doveva essere più sponsorizzato nel comune, tra i non fedeli. Eh, sì, esatto. Tra i non fedeli per avere un... Se c'è qualcuno disturbato, che poi qui da capire è disturbato, alla fine... Certo, se stai proprio davanti la chiesa un po' non sbatti. Però se stai già un po' più lontano, magari non ti tocca neanche, dici poveretto del prete. Sì, siamo solo in Italia, è chiaro, dove c'è un'ottomila chiesa. Vero, io sono accanto a casa mia, ero tipo quattro. Eh, sì. Effettivamente è... Bello, bello questo... Questa è una storia... Questo nostro caro Don Paolo. Don Paolo, democratico. Democratico. Perché non è... Io, comunque, ho sentito spesso di gente che scrivono ai preti... Sì. Per questo problema delle campane, perché noi scherziamo, ma... Cioè, ormai le chiese sono attaccate alle case. Eh beh, certo. C'è gente anche che ha i bambini che dormono, e quindi ogni quarto d'ora. Se siete dei preti, fate questo referendum. Ma, 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 guarda, se c'è un prete che ascolta questa trasmissione... Non credo ci sia, ho dato le notizie. Ecco, la chiesa è un altro motivo ricorrente delle nostre storie. Ah, ma, 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 ma... Pensavo stessi arrivando proprio a reali lì per arrivare allo shitstorm, così, nel finale. Boom! No, 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 no. Non mi permetterei mai. Però è vero, cioè, abbiamo raccontato un tipo il prete, il pastore con la spogliarellista, ti ricordi? Sì, ma io ero... Il tipo che dava fuga all'altare. Se avete perso le puntate andate a vedere. Io ero qui che mi sfregavo le mani perché aspettavo la viralità. No, non ne avrei mai. No, no, no. Benissimo. Bene. Ok, e anche oggi, ragazzi, noi abbiamo terminato con le nostre... Caramelle. Utilizzatele, come sempre, nei vostri Tinder date. Oddio, cioè, Tinder date, poi tu vai. Se le volete portare anche in monopattio o in divano, cioè... Ma portatene in chiesa al referendum. Ma tu hai già votato. Questo potrebbe essere il motivo di divorzio e di separazione di molte coppie. Vero, forse no. Forse è meglio di noi non entrare in certi argomenti, soprattutto al primo Tinder date. Esatto, non andate in argomenti sensibili. Sempre generalisti, dite un sacco di caramelle. Come diciamo noi, è andate a posto. Ciao! Caramelle dà è un podcast di puro intrattenimento. Esortiamo gli ascoltatori ad informarsi in maniera cosciente e ricercare ulteriori dettagli esclusivamente attraverso punti attendibili. Se il podcast ti ha strappato un sorriso, lascia una recensione ad un commento e condividi la puntata con i tuoi amici per supportare la serie. Grazie a tutti!